E' che si va avanti con Ocunfeogo, Mauro? Ocunfeogo l'ho ripigionato nel 1923, poi l'ho stato sospeso prima e dopo la guerra, e l'ho ripigionato nel 1951 e tutti gli anni si è fatto. E speriamo di continuare a fare. Speriamo anche di annullare a Fuego in telecamere e macchine fotografiche che realizzare, eh Mauro? Sì, sì, ma di solito non succede. E vedremo anche una saia a Sciamma nei prossimi seguni. Vi ricordo anche che una volta che capiamo che hanno un saia poi a cerimonia, o dopo pranzo, proseguì a Sciudenato, o Prigucciani, in Tussalunga, di Maggiur Consiglio, e lì ci sarà la seconda parte, nella sala del Maggiur Consiglio, la seconda parte della cerimonia che sta prendendo via, che ha già preso via qui a Deferrari con una fontana davvero particolare. sentite anche la campana, la grossa campana di Palazzo Ducale, un cabalum de Pagio che sta suonando con i ritocchi delle 17, e a questo punto l'assessore Boero da una parte, il presidente Bampi dall'altra per dare fuoco a questa pianta, Mauro Ferrando, che è sempre stata un feggeo anche in Tattavissù? Sì, ci si è sempre un feggeo, come fornisce o come una desena, e che gli altri prepareremo per l'occasione. E allora, dando appuntamento a tutti coloro che lo desidereranno a salire poi nella sala del Maggiur Consiglio, da qui a qualche minuto, Mauro, cerchiamo anche di capire, ora che il fuoco diventa anche un po' più corposo, che anno sarà, cerchiamo di capire anche che anno sta già da qui a qualche minuto, ma mi bacano un pidgee. Bacano un pidgee. E' fermo, eh. Che asciamma, che l'applauso da Ciassa, femmolo un applauso. Alla bella dritta, alla bella dritta, alla bella dritta, quante bisogno che è di nasciamma dritta in questi giorni, in questa città, in 2017, ci forte di ogni scaramanzia, che va a comporre a portare bene a Sena. Sì, sì, senza altro, se non è buono. Non è buono, le offreggio Ubrugia in Ciassa e Ubrugia bene, Mauro. No, benissimo, benissimo. Non è buono, non è buono. Non è buono, non è buono. E allora, non è che meraviglia, in Ciassa dei Ferrari, in grassi e speciali a questo punto, a Gianni Mazzarello, ai signori Oneto e Bianchini, i consultori d'Associazione Compagna, che ogni anno preparano il bracere e invita tutti ad accedere a questo punto, invitiamo tutti ad accedere al Salone del Maggior Consiglio con questo spettacolo straordinario, ma su via tutti a questo punto femus' anche un applauso, pegnati per Sena e per il 2017, che speriamo un sece meglio e se più rispetto a un 2016. A questo punto, se vedremo, ci le dato. Grazie a tutti. A manifestazione continua.